Ben ritornato in un nuovo video di Bro... Eh sì, che Brolstar Cos'era? Eh, cos'era? Di Minecraft, ragazzi Se volete un altro video di... Excuse me, che ti devi togliere? Comunque se volete un altro video di... Eh, eh, Bad Wars, non Brolstar, per fortuna ho detto Bad Wars, non Brolstar Dovevamo arrivare a 70 like E comunque, dai, che manca sempre poco per i... Oh, 7900 skiddy, che manca poco per i 8000 Forse faccio lo speciale, sì o no, boh, sni Comunque, commentate, lasciate like, iscrivete al canale E commentate, entrate nel mio club Ecco qui Questa è l'immagine del mio club Entrateci, entrateci tutti Guardiamo in partita Ok, ragazzi, ora siamo dentro Vediamo con chi siamo vicini Vediamo cosa sono questi qua Ok, yellow, it is yellow Poi abbiamo... Vabbè, non sono molto lontani Allora possiamo anche... Dirli che non sono così tanto nemici per noi Tanto dobbiamo già andare al centro Eh sì, che al centro Siamo già fatti al centro Comunque, ragazzi, questa challenge è... Vabbè, non l'ho detto L'ho inventata ora Perché ho detto Dai, facciamo come la challenge Di che andare a giocare Senza usare il letto Questa challenge è Di non usare il letto Non dobbiamo neanche bardare Questa è una cosa bella Posso dirti che non mi serve affatto Andiamo, ok? Come si coaccia? Ok, ok, come si coaccia? Wow, non so neanche giocarci Andiamo al centro, ragazzi Dovrei prendere subito Questi bellissimi smeraldi Perché tutti sanno Che questi smeraldi Sono molto importanti Per questo gioco Comunque, ragazzi La meschina di questa qui Non è ancora la meschina ufficiale Perché me la sta ancora creando Come si chiama, ragazzi? Come si chiamava? The Gab Ecco, un mio amico O anche collaboratore The Gab Comunque, ragazzi Iscrivetevi tutti Da FranciCraft Perché così Ho voglia di sponsorizzarlo Mi ha detto che c'ha Noo Di poco Ok, vabbè Comunque il suo canale Il link in descrizione Perché Noo Mi stanno già attaccando Eccolo Vai, vai, vai Ma mi fai paura, ragazzi Putta madre Vieni qui No Come faccio? Vai, 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 vai Oh, ragazzi Il letto è distrutto Il suo letto Vai, è pro Vai, dai Due di vita L'ho lasciato Porcucciano Un letto è distrutto Una chile Dai, ragazzi Già ci sta Ci sta BOTTO Ok, vediamo se mi sta attaccando Vabbè, io lo vado subito a attaccare Perché Noo Noo Come faccio? Vabbè, non lo attacchiamo Noi subito andiamo al centro Ah, davvero C'è l'ho Il letto Lo potrebbe distruggere Ma A noi Non ci importa Ok Cosa facciamo noi Prendiamo questa roba Andiamo, andiamo Andiamo Cosa facciamo? Spada Ho sprecato per niente Vabbè Ok, vediamo se mi sta attaccando No Scomento che vorrebbe fare la vendetta Di attaccarmi il letto Ma a me Sono meno freghista E non me ne frega Per questo è la challenge Di Non Sbabbare Il letto O dopo Devo sapere Che screen Come farlo Perché le screen Non so come Li fanno le persone Quelli di Per far bad words Perché Cioè Dico io a una persona Come fa Non so Poi creano pure le skin Cioè Proprio la sua skin Ma Animato Quindi intendo che Ha delle pose Non so come Forse l'ho imparato anche Perché c'è un app Su telefono C'è anche quella Su computer Ma per computer Mamma mia Deve essere Un ingegnere Una roba Di Ok Non sto per cadere Non sto per morire Dai Altre Una Oh due Dove posso andare Ragazzi No Non voglio morire Dove il mio letto Il mio letto Me l'hanno distrutto No ragazzi La mia fine No No Ragazzi Già arriva l'ansia Ragazzi Scrivete Tutti commenti Hashtag Anzi Mi metterò Tutti i cuoricini E scrivete anche Hashtag Becchino Per avere il cuoricino La fantasia del mondo Comunque il mio letto Non so neanche dov'è Cioè dovrebbe essere di là Ma io Non c'ho sbatti Di costruire Per tre anni Ma porpucciano Ma perché ogni volta Devo fare sta micchiata Mi sono rotto anche le Palotes Basta dire le parolasse Dobbiamo mettere un po' Friendly Ma youtube si rovina Non dicendo le parolasse A me le parolasse Mi piacciono Perché il video diventa Più Come si dice Più Interessante It is Interessante I am genius In English Odio sto gioco Ma fa molto schifo Odio sto gioco Fa molto schifo Eccoci di nuovo Su Bad Wars Dobbiamo guardare questo letto Ragazzi Se qualcuno sa fare Delle mine vitture Aiutami Io so fare Quello su Brustarts Ma Brustarts Fa veramente schifo Cioè Era bello Un anno fa Quando era tipo uscito In 3D Era sempre in 3D Intendo Girare lo schermo Prima era tipo Oddio come si dice Come sapete Whatsapp Era in tipo in questo modo Orientato Tipo così Su Minecraft In quel modo E io ho iniziato a giocare Quando era appena uscito A star Dopo un giorno Un mese Una settimana Non lo so Io Non so Che ho fatto scoprire Brustarts Ma io ci gioco Da quando era uscito Erano tutti botte La cosa era stra bella Perché Te giochi con i botte Ti diverti Ti diverti Ora sono diventi pure Le emoji Che quando te perdi Iniziano a fare Un brum Eh sì Come si chiama Ti mettono quella roba Di dislike Vabbè Ora noi andiamo Sì ma ci serve Oh ma ti sbrighi A few moments later Ok No Ok l'armatura Non l'ho presa Sì l'ho presa No per fortuna Ok Dove hai letto Dove è il mio letto Voglio dirlo Oddio Mi dispiace letto Ma questa sera Non dormiamo Ok Ma te sei rosso Ok Pensavo che ero anche io rosso Ora ragazzi Provo a fare una pastilla Intanto Ten 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 Ok Ok Sbrigati che Guarda che mostro Va già Takami Ti credi di escere Stiani Guarda anche io so farlo No 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 Sto per cadere Struz Che cazzo vuoi fare Oh ragazzi Se lo distruggo Letto E Ops ragazzi Per sbaglio Sono uscito Ma Da ragazzi Ho fatto una partita Bella Ci avevo Le distrutture Questi sono Il mio Azzattare Molto Per Vero Va bene Chi se ne frea Dove aspettare ancora Tre anni Per sta roba Questo video Non so quanto durerà Intanto noi andiamo Sotto al centro Perché Baldare a letto A noi Non ci interessa Ma Ok Di avanti Sono di là Perché io No Mi servono Altri Altri Tre Perché così Possono andare Ok No cinque Già una mela Ok una mela Dora che non l'ho comprata Una bella Mela dozzo Per drogarci Ok Qual è la tasto Ok Oh madonna Ok Comunque ragazzi Vi ricordo No Non vi ricordo Ah si Vi ricordi Seguirmi Su instagram Vi ricordo Che c'è il link In descrizione Oppure Sui commenti Che spaura Basta che E cliccate il link Cliccate Poi passa Dai Non siete così Tanto stupidi E basta Seguirmi Che vuole arrivare A 12 follower Oh nice No No Non posso arrivarci Ok Posso arrivarci No Ho fatto Ho sbagliato Ho sbagliato Tutto Ok Quanti smeraldi Sono bene Sono già due Facciamoci già L'armatura Aspettiamo Per coso Ma io Oh ragazzi Per voi Cado Per voi Oh Oh Qualcuno Mi ha distrutto Letto Sta venendo Ho visto uno Cadere Come un 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 Non posso Anche dirlo Vabbè Chi se ne vedeva Prendiamo Vediamo Chissà Ma che mustro Ragazzi Ora noi Su Si blocca Gioco Ma fai grande Schifo Si Ragazzi Oh No No Sumica Guarda cosa ti faccio Guarda Dai Non uccidermi Per favore Non uccidermi Team Teamming No Veramente Oh Please Oh Timma 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 Aspetta Mi provo a abbassare Ma non Penso di morire Oh ragazzi Se lo distruggo Il letto Ma che cazzo fai Stronzo Madonna che fastidio C'è Sempre succede Sta rottura De palle Sempre O ti sistemi O ti sistemi Se fai così Ti viene sta roba Ma Ti stai fermo Computer di merda Mi hai rotto Damini Mi hai rotto Mi hai rotto Diamonds In Five Time Dai 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 C'è dai ragazzi Sto giocando bene Difendere Letto Se l'avrei difeso Possiamo dire Che avevo già vinto Come con lo scorso video Che come sono caduto Poteva anche vincere Ma non l'avevo letto Ma potevo vincere Ok 444 Prendi 4 Uno Eh un diamante Ok cazzo Un diamante Vangari Si dava i diamanti Prendi Eh Guardiamo a letto Uh Uh scherzo Ok Come sta cuccia Acuccia cane del cazzo Ok Vai 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 Eh no Non posso vedere Se sta arrivando Comunque sto registrando Da 13 minuti It is nice Spero che la audio funzioni Stavolta Perché Avevo registrato Perché ieri Non avevo caricato un video Perché Perché Ok Se mi sta attaccando Se io vengo da te Ti distruggo Tu sai questa roba Cioè non so Se te rischi Con un pro playa Anzi Ma che mostro Ma che mostro Ma che mostro Ma che mostro Mostro Che Che schifo di essere Sei veramente Mi ha preso in giro Vabbè Dai grande Grande Noi Lo facciamo Perché Non abbiamo Perché non abbiamo Cos'ho comprato Perché io Non ho veramente La voglia di Spaccare il letto Anche se è in lana Perché a noi La lana non fa molto male Al nostro sciorbiello Perché cosa Cosa cambia Ok Vai Vai Giù Giù se mi distrugge Ok Mi ho tipo due Ora noi facciamo Stack Stack Andiamo Vai No Che stronzo No 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 C'ero quasi Ma sta roba Mi fa così Madonna Che merda Giù E questo video Non è poco Frame Ma a noi Non ci importa Perché Non mettiamo Queste robe così Perché non Non vogliamo regalare Quello stronzo Vai 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 Guarda Cioè Ti ho noto letto E ti dovresti morire Se te sta in vita A me non va bene Cioè A me non va bene Vediamo se sta arrivando Ok Vediamo se sta arrivando Ok non sta arrivando Perché mi ho letto Non è neanche coperto Se sei un po Un po Genius Vai Ok Facciamo la tattica Dell'hacker Vai Dovò mangiare la mela Ragazzi Ma come Mi hanno distrutto Il letto Ragazzi Ora facciamo L'ultima partita Poi basta Sì ma Fina che va Ok Questa è l'ultima partita Dai che la devo vincere Ragazzi Devo Non pushare Perché devo vincere Chi è questo qui Oh perché mi sta guardando Oh Vediamo se posso scrivere Ok I'm You Tu Ok Non so You Tu Penso di averlo pure scritto male Uno in terza Chi scrive I'm You Tu Ragazzi Voi sapete che cos'è Uno Ok Qui Per andare al centro Della roba più Idei ragazzi Perché questa mappa La conosco Memoria No Scherzavo Non la conosco Anzi sì perché basta Andar qui Ma prima che c'è questo Eh anche lui Dai ma perché Viene assia Siamo su noi È un gioco Questo test è troppo lontano Il controllo di C per me è troppo lontano E a me mi serve E a me mi serve Abbiamoci questo ok Molto frangio manciale Tè Può anche andare Vai 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 Let's do this Ok Ora Non devo cadere Vanno Uno Ishtang 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 Oh Potremmo attaccarlo Forse che lui fa la mia la challenge Non mi sto già attaccando A noi non ci interessa Oh ragazzi io mal di gola Non riesco più No Oh 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 Mi staccamo Oh mal di gola Ah mi sono rotto il minero No Eh pollice Cos'è Ma con lo sto Chi lo sa Che noi dobbiamo sempre Che si scrive Test Tasto Ti Ti vuoi allontanare Possiamo attaccare I blu Sei blu Oh ci piove il sole C'è L'arcobaleno È qui per me Arco Prendi subito qualcosa E non mi tiro tutto dentro Non ho lasciato Lo prende nessuno Perché questa è una gara Come fa a cadere Ma Questa è Magia nera Ok dai Dai mi hanno Io che colore sono Ok C'è Mi hanno distrutto appena letto GGG GGG Dai sì Fai scioppa scioppa Come su fortnite Poi ci ha ancora rovinato Vai Cosa che è Mentre Hai fucking destroyed the bread Let's do this Black Continue Cisci Cisci Cos'era Cosa mi sa Questo Ok Almeno noi dobbiamo avvicinarlo Oddio ragazzi Sto facendo l'impossibile Che ansia Penso che qualcuno Oh Che male Che male Che male Penso che qualcuno Mi sta attaccando Mangia Mangia Si vado ad attaccare Con questa spada Ragazzi Questo è il pro player Di oggi Basta Spada in diamante No ma il suo letto È già distrutto Ragazzi Pensavo che non era Ma Giuro Che dai Ok Ora posso vedere Mi ero appena spaventato Ok Va bene Tra l'abbè Uh Sette Già spada Nice Vabbè avevo detto di non comprare una spada Ma Voi non avete scritto Ok Ho comprato due spade E Non dovevo farla Ma vabbè E butto questa Mamma mia Che ha Ok Rosa Sono ancora Di rosa Vai 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 Deve eliminare Solito il rosa Dai a questi Smeraldi Diamanti ci sono Ben quattro Possiamo già farci la spada Ma io voglio L'armatura Visto che c'è L'armatura In ferro Lo so Ho qui Cado Ho qui Ok No ragazzi Questa è l'ultima partita Dovrebbe andar bene C'è già 20 minuti di registrazione Già siete Registri Con film ora C'è Ci metto un giorno Non so Io per questo ci metto Tantate a fare video Su Bed Ma ho sbagliato Ma ho sbagliato Ho preso quello che non dovevo prendere Vabbè Intanto noi ci prendiamo una bella La mettiamo Ok È super vicino Vai 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 Nice Dai sono col pioggetto bene Ma non di armatura Beh potrei ma Io non voglio Ok quello Ok Pink sono ancora In vita Per ora Per ora Ok I rossi no Non hanno nessun letto Sto per cadere Chi è Chi è C'è qualcuno No no I grey sono già eliminati Non sto capendo Se l'ha letto Ok Sapete cosa faccio io ora Compro Wow Ora prendiamo altre mele d'ora Questo Ti metti qua Oh Quanto sei lento Oh Fino a metà Già mangiamo Oh Hello guys Welcome back To the mic Channel Ti distruggo il tuo Oh E' Lo 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 Ok Oh guarda Che stupido Guardalo Eliminato Vai Ok vai vai la partita lo sto aspettando se ne è andato no se la vinco ragazzi si esploso ok che ansia cioè già vedere il puntatore come si muove ok chi ha letto line poi yellow madonna da allora non la vinco prendi quanti sono tre ben fatto no mi servono quattro dai cinque quattro tre due sì ok no no non devo morire ragazzi se muoio con questa roba intanto prendiamoci anche questo legno che non servirà a niente guarda quanto oh ragazzi ora mi sento super forte ok noi potenziamo la spada ok già potenziata cosa potremmo prenderci vai 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 no allora vai quante volte sto dicendo vai che mi sto anche io roppendo dicendo vai come non posso comprarla ok non sto capendo ok io vado subito ad attaccare yellow che mi sembrano il più il più forte perché dico più forte il più forte è solo da uno la partita migliore che abbiamo fatto in un video se l'audio va male se l'audio giuro che ansia ragazzi che ansia cioè dai chi è quello che non vuole mai vincere cioè le bed sono molto difficili per me ok smeraldi un'armatura ne ho tre cinque eh sì quattro l'altra dovrebbe essere quarta la quarta speriamo che ce l'ha speriamo ok quarta dai quinta e sesta una è di là spero che nessuno l'ha presa almeno vai 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 vediamo 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 oh armadura adesso fa fare poi andiamo a distruggere il letto oh 1 v 1 ragazzi 1 v 1 1 v 1 1 v 1 ok 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 ragazzi tutti calmi tutti calmi tutti 7 7 dai che la devo vincere ok cosa mi serviva a me ho sbagliato posizione ok ok non c'ho di amare cosa mi serviva a me oh nice speed no jump a me mi serve allora togliamo no oddio mettiamo questa qui poi facciamo così altre frecce no non devo prendere frecce va bene va bene che se ne frego ok yellow it is here che cosa ho detto vabbè che lo so e le mili d'oro dai no ragazzi che ansia no vabbè ragazzi è stata una partita bellissima dai no non si vede il mio personaggio vabbè ragazzi spero che il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare like commentare condividere comunque se arriviamo a 70.000 like un altro video di microsoft ciao 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 Grazie a tutti.